vignetta terror from the grave cioè un'espansione che contiene solo l'assassino ispirata ai vari film sugli zombie potevano mancare gli zombie su final girl certo che no essendo una vignetta non c'è la solita plancia del chile bensì queste due carte che la compongono il simbolo di questa espansione come visto dal dal dorso è la manina che esce da sottoterra c'è indicato il livello di partenza dell'orrore la classica scala della sete di sangue con a fianco la quantità di zombie che entrano in mappa dagli spazi di uscita cioè le zone verdi le tre carte final le tre dark non c'è quella epica 16 carte terrore tra cui questa simpatica mamma sei proprio du oppure ci sono c'è gente morta ovunque non c'è più spazio all'inferno eccetera eccetera una final girl pazzi senza oggetto personale che è ispirata all'attrice patricia talman che ha recitato nel remake della notte dei morti viventi girato nel 1990 con una ulti molto aggressiva che costa infatti cinque vittime per essere attivata 13 carte azione veicolo da usare con uno dei dieci veicoli presenti nei primi dieci lungometraggi della prima e della seconda stagione per esempio questo è il gatto delle nevi del lungometraggio e dell'espansione che simula e rivive il film la cosa vari segnalini per vincere una partita devi uccidere tutti gli zombie che ci sono in mappa comprese anche le eventuali orde perché perdi quando in gioco ci sono già tre di queste orde infatti ci sono solo tre segnalini e tu dovresti creare la quarta ovviamente perdi anche se ti ammazzano prima ovvio gli zombie di per sé si comportano come dei minion infatti sulla carta final c'è anche l'azione dei dei minion e hanno uno di attacco uno di movimento e un punto vita il problema è che si attaccano una vittima cioè quindi se uno zombie attacca una vittima quella diventa uno zombie viene sostituita con un segnalino di questi e quando alla fine del turno ci sono tre o più zombie in una zona si fondono appunto in un orda si rivela la carta power relativa che hai pescato all'inizio della della partita e l'orda da quel momento in poi comincia a comportarsi come un killer che ha tanta vita quanti erano i zombie che l'hanno formata e che poi accumula continua accumulare punti vita ogni volta che uccide una vittima o ingloba altri zombie che trova sparsi per la mappa quindi diventa sempre più cicciotta la vignetta aggiunge anche come ho detto prima regole speciali per gestire i veicoli dell'ambientazione che hai scelto di usare insieme a questo killer quindi ignori le normali regole e la carta oggetto di quel veicolo che trovi nella nella parte dell'ambientazione e la rimpiazzi con questa carta azione associata a questa espansione e associato all'oggetto specifico grazie per aver guardato questo video alla prossima grazie per aver guardato questo video